23esima edizione per la moto tagliatella a Predappio, migliaia anche quest'anno all'appuntamento immancabile motociclisti per cibarsi con le prelibate tagliatelle a ragù, preparato dal numeroso staff che ha aperto le danze con un rituale propiziatorio. Io tutti gli anni vengo, sono già 4-5 anni che veniamo, ci mangiamo delle tagliatelle, un po' di birra, un po' di festa e poi ci andiamo a casa. Noi veniamo da Sant'Ilario che è vicino a Parma, tra Reggio Parma. Belle donne, belle moto, belli anche gli uomini. Da dove venite? Da Pistoia. Biker o alla ricerca di un fidanzato biker? Beh, io non sono né biker, però un fidanzato biker meriterebbe. Abbiamo aumentato un po' le dosi perché l'anno scorso eravamo rimasti senza, quindi siamo molto contenti, la giornata tiene e adesso cominciamo con gli spettacoli perché il giro questa mattina ha avuto un intopo purtroppo per un piccolo incidente e abbiamo tanta gente, abbiamo un aumento comunque di un 10% circa. quest'anno è il nostro anniversario, ci siamo messi insieme l'anno scorso qua e quest'anno siamo tornati. Va bene, va bene, va bene così, è a posto. La fatta è buona? La fatta è buona. La fatta è buona.